Si sa che ogni voce è il prodotto di un corpo e di un'anima, e quando poi questo tipo di voce hanno l'abitudine di dire sempre quello che pensano, prendo il finito di farlo ogni volta, e allora avete davanti Loredana Berlino. Ciao, volevo dire due cose su questo brano meraviglioso che mi ha regalato Luciano Lidovue, è una canzone contro la violenza sulle donne, psicologica, mentale, fisica. Io purtroppo le ho subite tutte e tre. A 16 anni sono stata violentata e massacrata di botte. Ogni sei ore c'è un femminicidio, ogni sei ore. E io adesso ho smesso di tacere. Sono una di quelle di cui forse si parla a una cena o in panetteria. Poi ognuno ritorna alle proprie faccende, io non ho mai lasciato le vie. mi vedo tutti con altri occhi e vedo gli occhi, guarda a me. Sono una di quelle che qualcuno le guarda come avessimo dentro, dico di colpa, ma ho spesso di tacere. E so soltanto io cosa puoi dire. Riprende l'acqua tardi, prima che sia tardi. E camminare a un cuore nascendo il sole. Sono una di quelle che lo sono ogni giorno, ogni giorno mi sveglio così. il soffiato puzzava della bestia che ha dentro. Sono una di quelle che sto qui. E vedo tutti con questi occhi, con questi occhi e vedo gli occhi a passarsi da me. Sono una di quelle che vedete nascoste, ma ho spesso di tacere. E so soltanto io cosa vuoi dire. Sa te che cosa è tanto il cuore uho in quell'amm Timolo di ricetta. Ho pracato e paura. Ho smesso di piacere E so soltanto io cosa vuoi dire Sa il tempo che ho scogliarmi Prima che sta tra lì E io ho giusto te e la saprò capare Ho smesso di piacere Ma so soltanto io cosa vuoi dire Sa il tempo che ho scogliato E il tempo che ho vero E un pasto con l'obbedia di cibo Andiamo, andiamo Grazie a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti